Musica Ci siamo più... Eh, no, ragazzo, allora... Eh, come si lascia ognuno va da... Pippi, 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 pippi No, è vero che te sei... No, ma non è vero che te sei più... Io non le ho chiuse... Ma sono mai chiuse gli occhi? Ma se qui siamo tutte ai buio, apriamo un pochino... Guarda, 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 guarda... Guarda, 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 guarda. Cioè, la prima... Eh, ma insomma, io un po'... Però vabbè, qua la piscina, io. No, c'è un salto. Mi fai un attimo questo filmino, qui? Non ci mettere mai da parte, dai, niente. Ti te lo dico? Ora... Ma guarda, guarda, qual'è la picchiaia? Qua è la picchina? Aspetta, aspetta... Ma aspetta, ma chi lo sta facendo così? Ti fermi un attimo, vieni qua un attimo, vieni qua un attimo. Chi sei? Dovevi stare solo fermi un attimo Buonanotte Vieni qua Vieni qua Vici a pausa Con la sua mamma Abbracciatevi Ecco, testa nella testa Perché questa la prendiamo Questa la paramedica Però con la Nadia Metti il viso La paramedica La paramedica La paramedica La paramedica E tu guardi Magari Quando vai la paramedica Se sta facendo la paramedica Ci senti? Prendici tu Oh, bisogna accendere Devi andare via Guardate Bella, bella Bene Ti vedo solo la malietta io Ora ti stai ferma Oh, vieni qua Franca Vieni qua 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 Stai riprendendo tutti More Vieni qua Vieni qua Vomma qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Questa aveva fatto Aspetta, ma è regolio di... Ma che ora? Oh, bambino! Ma lo stai ripenendo? Stai ripenendo, sì! Ma lo stai ripenendo! Ma lo stai ripenendo! Ma lo stai ripenendo! Io! Mi auguro che la ripenendo? Cosa? Ma prensa e fai un bel dietro! È finita! Ha! E' un po' di più! E' un po' di più! Oh, è un po' di più! La raccolò da sopra e ti fa una foto di Whitbap O dove ho fatto il mio zio e la nipote Crodina? Cieni fumatrici Io devo andare via! Vai via! Ma io voglio dire a Valeri, massimo le due e mezza sono a casa Guardate, guardate! Guardate, guardate! Forza, voglio mangiare questo riso soffiando! No, mi piace! C'è un po' di più! C'è un po' di più! C'è un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! Mettiti lì! Mettiti lì con... E' Leonardo! E' lei il cinematore! Vai! Leo vieni! E' un po' di più! Bambino! Vai! E' un po' di più! E' un po' di più! Si avvicinati! Eeeeeeeh! Bella volta! E? Ma che è? Sta firmando! Vai! Firma tutto! C'è 29 cica! Finisco a mare! 30 cica di roba! Filma! Filma! Bambino! Sì! E' un po' di più! E' un po' di più! Dammelo per... Vai! Aspetta! Ma questa è la lente sull'alto! Tutti sei mostro! E' rimasto solo il netto! Ma vieni! I metti lì! Iiii! No! Sono sudato! E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! Ma vieni! 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 Buon viaggio, è un massellello con i poteri! C'è più luce, c'è più luce! Eccola, eccola! Non mi la veste! C'è un cardo lì dentro? Siamo meglio o no? No, insomma! Ma bello o no? E ci siamo, e ci siamo! No, questa l'è bella! No, io voglio con l'elenore assolutamente! Sto vedendo che siamo un po' di meno! Oh, la franca deve andare via, magari lo aspetta da l'elenore! Ecco, che ci può! Poi, verso l'ora che la viene, sei senza lì, hai visto dei visi sognanti? Davali per la mano! Si sognanti! Come si vede a essere voi? Oh! Oh! Si sognanti intanto! Io guardavo un qua all'altro quando guardare! No, vedi, dai! Ho già questa! Ma insomma, io sei bozzo! Che? Che foto! No, dai! Io so che rifiame! Tieni dai! Tieni dai! No, però ora troppo ste... Più! No, dai! No! No, dai! No! 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 Tu non ci senti tutte le cose! Dai! Fammi vedere il filmato! Che che devi fare ora? Buttaglielo di sotto ora! Fammi vedere il filmato! Ah, credo tu ci ha messo la pellicolina! Oh, man! Mio! Questo è il messo! Martin, dove vai? Non vuoi, vuoi vivere appena! Non vuoi andare via! C'è il dolce! Oh! Io lo mangiavo! Eh! Ah, sta! Io non ho spesso! Cosa? Cosa? Che ti ha addosso? La cioccolata! Mezza il latte! Mezza food! Io vado in bagno, eh! Oh, ci si ha addosso! Questo non c'è! Ma stoppale ogni tanto e riavviani! Oh! Si, no! Tu lo faccio di frutta la... Poi la hai scoprata di qui! Che hai da lì! Però è l'escolato! Non cuida la tua pesca! No! 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 No piagnacero Sei! Vole indica! Sei! Sei! Scoprata Sì! cazzo li ho vinciato a ca No, ma spengilo un attimo. Belle fatte, vai! Siamo in onda, siamo in onda! Siamo in onda! Siamo in onda! Sì, smetti! Sì, smetti! Mi fai che? Perché? Perché andai davanti il pedellino va. Io dico, adesso fai il pop. No, no. Perché il pedellino va? Perché tanto ora non c'è più ragazzi grandi. Vedi, ora c'è luce. Vai arrivare ai Caraibi o tu? Sono in fiattolo. Ma che il Caraibi che c'ha ai settantenni? Vieni via ai Caraibi! No, il Caraibi o no? Corregrati o c'è più ragazzi? Non c'è più un palestra. Lì, non c'è più nel senso. E allora vanno a vedere, vanno a vedere. Che è successo? Facciamo vedere la foto mia! Il che tu vuoi vedere? Quale filmino vuoi vedere? Le cose! Ho preso un collo! Oh, io gli ho mandato il messaggio ma non è partito! Che filmino vuoi vedere? No, domani sera è l'anniversario! No, domani sera è l'anniversario! Lurezza ti piglia lavandera! Lavandera? Ti ha lavandera! Lurezza ti ha lavandera! Super Saiyan! Si, Super Saiyan! Si, Super Saiyan! Con unghiella fumando! Una barba! Si, ha fatto male! Fini a schifio! Come? Dove si ha fatto male? Fini a schifio! Ma mamma! Stai lì, ma mette! Oh! No, come gli diceva. Sitten, che paga uscheglio? Uschegliiiiiiii! Uscheglio! Partiu! È un'imiliatione partiu! Uuuuh! S'è il cliente! Uuuuh! Uscheglio! E un'imiliatione partiu! Ma che ago? Aspetta, oh, Franca, aspetta, Franca, prima andavi a farti spiegare da Leonardo che l'è l'utero. Bravo, fai il ponte. Mamma, fai il ponte di Sì. Ma dove vai? Ma in mare, va via. Ciao, stasera c'è i parchi. Ma fai che io in questa volta? Mi andrei a finire a schifio. E che l'è questo? Il ponte. Eh, la cilentura. Oh mio. Ma te levati, tu mi rovini le cose. C'erano i piedi così, tu forzi le ginocchio. Eh, ma anche le panni. Ma le cose che vuoi fare voi due, mi dì una cosa, ma le cose che vuoi fare voi due sono uguali o sono due cose diverse? Complementari. Che vuoi dire complementari? Una fa chassu, che l'altro che fa? Una fa chassu. Una fa yoga e una fa chassu. No, però tu qui. Vieni a vedere Paola, falla anche te. Perché? Ho voglio fare anche io. Perché se te stai così ti fai una... Eh, no, perché... Ma perché te lo usare le braccia non le usi. Devi usare questo, chiudi. Eh. Ho voglio fare anche io. Ma... Vieni a falla anche te. Ora la Nadia, non te lo devo, vi annuncio. Aspettate. Vieni a falla anche te. Perché te lo fai fare il faccigno la cosa? Vabbè, questi diciamo che ho in casa. Ammi la scarca. No, sì. Ma perché dove te l'andavo a visita? C'erano questa? Si viena la Nadia. Guarda, ascolta. Per i temi, si viena a casa mia. No, ascolta. Nadia, ma non sei venuta a casa mia come ero. Con i piedi. Ma che stai facendo? Senta, senta. Vabbè, andassi. Perché dove andassi? Andassi. Che stesse? Guarda, guarda che bestelle è questo, Paola. Guarda che bestelle è questo. No, fermo, fermo. Perché se allunghi la mano, guarda, se allunga la mano arriva da qui a lì. E' come lì alto. E' come lì alto. E' come lì alto. Ma si allunga la mano e si sa riapigliarlo. Ma, mamma. E che braccio arrendesce? E' come lì alto.